Musica Amici sportivi appassionati di pallamano, nuova puntata della Casa della Pallamano, anche questa settimana ci occupiamo delle attività all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti, delle attività naturalmente della squadra federale Campus Italia impegnata nel massimo campionato italiano maschile di Pallamano, la Serie A Gold, non soltanto però ci occuperemo anche di nazionali azzurre che qui in Abruzzo sono sempre di casa con il ritorno della nazionale maschile in modo particolare al Palo Giovanni Paolo II di Pescara il prossimo 9 marzo per la gara di qualificazione a Euro 2024 contro la Lettonia, sono tanti naturalmente i temi e allora decidiamo di andare per ordine, di non fare confusione, inizio presentando l'ospite di oggi proprio qui nei nostri studi della Casa della Pallamano, saluto Lorenzo Fragnito alla destra del Campus Italia, ciao Lorenzo. Ciao Matteo, un piacere essere qui. È un piacere per noi averti naturalmente qui nei nostri studi, Campus Italia allora come primo argomento, Campus Italia che è sceso in campo consecutivamente negli ultimi giorni in due gare di campionato, prima la sfida contro la Raymond Sassari giocata nella fine settimana scorsa a Chieti naturalmente, terminata col finale di 40-30 in favore dei Sardi e poi nel pomeriggio di mercoledì sconfitta 39-29 contro il Bolzano nel recupero della diciassettesima giornata. Prima di parlarne con Lorenzo Fragnito ascoltiamo le impressioni post partita, in modo particolare il tecnico Pasquale Maione e dall'altro lato invece il tecnico del Bolzano Mario Sporcic. Pasquale Maione, bene il primo tempo a stretto contatto con il Bolzano, insomma che è una delle squadre forti e quotate di questo campionato, poi nel secondo tempo la gara è scivolata un po' via diciamo. Ma sì, questa è la nostra pecca forse di tutta la stagione, iniziamo abbastanza bene, nel primo tempo riusciamo a rimanere in partita, poi nel secondo ci sgretoliamo un po', ci disuniamo un po', esce fuori l'esperienza della squadra avversaria e molliamo un po' la presa e il divario si allarga. Forse oggi un passettino indietro rispetto alla partita con Sassari l'abbiamo fatto perché soprattutto in difesa i meccanismi collaudati sono venuti a meno. Stai sperimentando anche nuove soluzioni, soprattutto in fase di tiro, ha molto gioco con i pivot di turno in campo, un De Angelis visto anche a terzino, insomma quindi anche soluzioni nuove per questo gruppo. Ma guarda, siamo un po' contati perché oggi avevamo battaglia di donne infortunati, quindi siamo costretti a sperimentare un po', però sono contento perché poi saper giocare a palamano vuol dire anche questo, vuol dire muoversi in tutte le posizioni, vuol dire quando c'è bisogno adattarsi alla situazione della partita che succedono in partita. Il prossimo turno, insomma, non c'è tempo per riposarsi perché già sabato si va sul campo di un'altra alta tesina che, insomma, è tra le prime della classe, insomma, è una che lotta per lo scudetto, cioè il Merano. Che obiettivi per questa sfida? Beh, gli stessi che abbiamo tutto l'anno, noi dobbiamo pensare a noi stessi, far crescere i ragazzi sicuramente e di gruppo. Come ho detto che abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita di Sassari, adesso con il Merano ci dobbiamo mettere sotto per fare un passettino avanti. Andiamo, come hai detto tu giustamente, in casa di una delle squadre rivelazione del campionato, una delle squadre che sicuramente lotterà fino in fondo per un posto di alta classifica. Ci aspetta una sfida durissima perché mentre il Bolzano era in emergenza e veniva da un periodo non facile, il Merano è sulla cresta dell'onda, quindi per loro può essere solo una partita subito per pensare poi all'altra. Noi invece dobbiamo essere in grado di andare lì e fargli sudare questi punti che sicuramente saranno una partita difficilissima per noi, ripeto, andiamo su un campo storico italiano e una squadra veramente rivelazione. Sporci, ci arrivano i primi due punti del 2023, insomma avete dovuto attendere tre partiti di campionato, una di Coppa Italia, però alla fine insomma sono arrivati. Sì, noi avevamo l'ultimo periodo un po' difficile diciamo, siamo arrivati dalle tre sconfitte in casa contro Carpi e altre due contro Conversano che è una squadra fortissima. Sono contento oggi perché abbiamo vinto e speriamo di adesso prendere la strada giusta e prendere più punti possibili, però peccato perché eravamo da un punto a playoff dopo il girone di andata e le prime due giornate di ritorno e poi con queste sconfitte sicuramente siamo scesi tanto. Gara che soprattutto nel primo tempo è stata sempre avanti Bolzano, però più con a stretto contatto il campus non riuscivate a superare quella linea immaginaria dei quattro gol di vantaggio, si arriva a più quattro poi c'era il contro break del campus che riusciva a rimettersi sotto, poi nel secondo tempo sono andate molto meglio le cose. Sì, campus, cioè devo fare complimenti ai ragazzi e allo staff qua perché si vede che squadra cresce e loro hanno diciamo un po' problema in difesa perché i ragazzi sono ancora fisicamente un po' indietro a altri ragazzi di Serie A, però stanno sviluppando un bellissimo gioco, gioco veloce, gioco moderno e ci sono alcuni giocatori che veramente saranno in futuro grande forza dell'Italia. E queste le parole di Mario Sporcic, il tecnico della Bolzano, abbiamo ascoltato anche quelle di Pasquale Maglione possiamo anche vedere in grafica l'eredità che ci viene lasciata da questo ultimo recupero della Campus Italia la classifica quindi della Serie A Gold, una classifica che vede i ragazzi della squadra federale sempre fermi a 5 punti Lorenzo Fragnito, queste ultime due partite, quella contro Sassari, 40-30 in favore della squadra Sarda che peraltro si è riavvicinata poi alla zona play-off e la sconfitta di ieri contro Bolzano che cosa vi hanno lasciato? Sono due partite in cui potevate fare qualcosina in più? Soprattutto forse quella contro Bolzano di mercoledì? Sicuramente erano due partite molto difficili, soprattutto quella contro Sassari che comunque è una grande squadra ma anche contro Bolzano in cui l'esperienza ha dimostrato che è importante e che ci ha comunque dato del filo da torcere in quanto aveva molti giocatori di una certa età che comunque sapevano giocare molto bene come Turkovic ma anche Basic che ci hanno tra virgolette insegnato come si gioca perché sì è stata molto brutta tra virgolette perché speravamo di ottenere qualcosa di più però alla fine è giusto così Che momento è della vostra stagione? Il vostro percorso di crescita? Poi ne parleremo anche di quello che verrà dopo, magari ti chiederò qualcosina su quello che verrà alla fine di questa stagione però che momento è da un punto di vista sportivo nel vostro percorso stagionale? Secondo me è un punto di vista cruciale tra virgolette perché siamo all'incirca a metà anno quindi le basi di un gioco di squadra e della squadra sono formate quindi è il momento in cui tutti noi stiamo crescendo sia come singolo però anche come squadra E adesso allora parlavamo di crescita riprendo le tue parole e continuiamo a parlare di crescita rivolgendoci ad uno dei ragazzi che probabilmente è cresciuto di più in questa stagione di Serie A Gold il pivot Valentino Dello Vicario il nostro Andrea Dello Isolo ascoltato al termine della gara contro il Bolzano Vediamo Dello Vicario alla fine ha vinto Bolzano insomma una squadra sicuramente costruita per bene figurare in questo campionato però soprattutto nel primo tempo siete riusciti a non sfigurare insomma a tenere il passo di una squadra molto forte Sì il nostro punto di forza appunto è la corsa e abbiamo cercato fin dall'inizio di spingere al massimo poi sempre per delle cose stupide abbiamo perso vantaggio però comunque ce la siamo giocata per tutto il primo tempo squadra che gioca sempre più con il pivot e questo insomma ti fa sicuramente piacere visto che il tuo ruolo insomma ricevi tanti palloni giocabili sì quello sicuramente all'inizio era un po' più difficile soprattutto per nelle partite perché nelle altre squadre c'erano comunque persone molto più esperte con molti più chili di noi e adesso stiamo cercando di trovare il ritmo e la sintonia con gli altri per prendere più palloni Senti, ma veniamo anche al prossimo turno insomma perché non c'è tempo per riposarsi perché praticamente sabato lunga trasferta in alto adice questa volta contro il Merano che insomma soprattutto per come sta andando in questo Medi in campionato è anche più quotato di questo Bosni che già era una signora squadra Sì adesso una bella trasferta a Merano e cercheremo sempre di dare il massimo e vedremo come andrà Ti ricordi qualcosa della gara di andata come andò insomma come poter affrontare le contromisure da prendere nei confronti di questo team? Sappiamo che le abbiamo già affrontate in casa sarà sicuramente una partita difficile soprattutto in casa loro e vedremo come andrà Lorenzo parlavamo prima di ascoltare l'intervista della grande crescita grande evoluzione che tutti avete avuto in questi due anni anno e mezzo al momento di Campus Valentino Dello Vicario ha avuto un percorso di crescita importante ecco dal tuo punto di vista il fatto di stare sempre insieme vivere sempre insieme come Accademia quindi di crescere insieme dentro e fuori dal campo quanto ha potuto incidere sulla crescita poi anche di ragazzi che magari hanno un carattere più riservato per esempio nel caso di Valentino che è molto silenzioso, pacato e che gioca in un ruolo nel quale invece in mezzo al campo bisogna farsi sentire anche con il fisico con la presenza diciamo che Valentino nell'esempio lampante perché è arrivato molto timido e piano piano essendo che viviamo appunto insieme si è aperto ma come ci siamo aperti tutti e ci siamo conosciuti meglio infatti dopo ogni evento, dopo ogni partita comunque ne potevamo parlare discutere e migliorare quindi il miglioramento non era solo in campo ma anche fuori e questo naturalmente è uno degli aspetti cruciali di un progetto come quello federale del Campus Italia che lo ricordiamo ormai chi ci ascolta in maniera e chi ci segue in maniera abitudinaria lo avrà imparato a memoria racchiude in un'unica squadra qui a Chieti i principali talenti italiani compresi tra i 17 e i 19 anni quest'anno un progetto che è iniziato l'anno scorso quando i ragazzi più piccoli avevano 16 anni un progetto che quest'anno vede il Campus Italia impegnato nella serie Gold il massimo campionato maschile che intanto giunge alla giornata numero 21 che andrà in scena nel corso del prossimo fine settimana si corre dritti fino a quello che poi dovrà accadere al termine della stagione con i play-off e con i play-out allora presentiamo la giornata, il prossimo turno in programma vedendo il servizio i rinvii, le decisioni del giudice sportivo e i risultati che come sempre si incrociano e danno vita ad equilibri di difficile lettura rendono interlocutori alla fase che la serie Gold vive e fa vivere le sue 14 squadre certezza incrollabile delle 19 giornate fin qui andate agli archivi è lo strapotere esercitato dal Brixen per nulla distratto dalle imprese della Coppa Italia e anzi apparso solidissimo nel 42-29 maturato sul campo del Carpi pronostici rispettati certo ma la squadra di Davor Ciutera è brava a rimanere focalizzata sui suoi obiettivi all'orizzonte c'è la gara casalinga contro la Team Network Albatro senza lasciarsi distrarre dalla prova di forza con la quale Conversano batte intanto 30-25 l'Alperia Merano alla Pala San Giacomo di ben altro peso rispetto agli altoatesini due punti raccolti dai pugliesi davanti al loro pubblico bianco-verdi sempre avanti grande partita del polacco Vrubel e secondo posto solitario lo stop della SIDEA Group Junior Raffasano dovuto agli impegni di European Cup in Ganna maschera un po' i valori della classifica ma sta di fatto che la 19esima giornata restituisce un duo formato da Raymond Sassari e Pressano a 25 punti e con due sole lunghezze di ritardo sulla quarta posizione e quindi sui play-off scudetto i Sardi risolvono il Rebus Campus Italia vincendo 40-30 nella casa della palla a mano di Chieti e con il loro tecnico Zupo e Kisoin guardano avanti mi parola è sempre uguale partita 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 now ora adesso prossimo partito Carpi prossimo partito Siracusa finischiamos febrero dopo due settimana di riposo por la nacional debiamo vencer los 4 punti però primo partito Carpi dopo guardamos classifica a vero guardando dove stamos discorso analogo per i gialloneri che in camera hanno due punti di grande rilevanza nelle 29-24 del Palavis contro Cassano Magnago all'orizzonte ora c'è la classicissima del Nord Italia sul campo del Bolzano sfida da ex per il tecnico dei Trentini Alessandro Fusina diciamo stiamo tenendo duro siamo ben preparati perché arrivare a questo punto con pochissime rotazioni e a disputare gare così combattute e anche vincerle vuol dire che siamo ben preparati Nella quadro dei risultati di sabato scorso due accadimenti geograficamente distanti ma collegati dalla classifica che impattano entrambi sulla zona salvezza il 30-24 con cui Siracusa ha battuto a Bolzano unito al secondo successo stagionale della Romagna 30-27 a spese della Banca Popolare Fondi porta i siciliani a più tre proprio dai rosso-blu laziali e dall'area rossa della classifica che fa rima con play-out e sabato prossimo a proposito al Palabursi c'è il derby tra Secchia Rubiera e Romagna E questo è il quadro con cui usciamo dai confini regionali diamo un'occhiata anche alla panoramica della massima serie maschile della Serie A Gold e quindi a quello che può accadere e accadrà nel prossimo fine settimana su tutti i campi vediamo anche il prossimo turno eccolo qua in grafica Campus Italia Lorenzo che fa visita ad una delle squadre certamente più in forma di questa stagione una delle squadre più forti probabilmente della Serie A Gold non so se la regia ha modo anche di tornare indietro e fare un passettino di nuovo alla classifica per farci vedere appunto la posizione del Merano in questo momento terza ma di fatto combatte per il secondo posto con il Conversano è una partita certamente molto difficile lo erano già quelle con Sasseri e con Bolzano questa lo è all'ennesima potenza visto che giocate anche in casa loro Assolutamente sì già la trasferta sarà molto impegnativa perché si tratterà di un lungo lungo viaggio ma anche contro un roster che quest'anno ha fatto molti acquisti ha migliorato molto e in Coppa Italia comunque ha dimostrato il suo valore anche contro squadre come il Brixen e il Pressano quindi ci aspettiamo una partita dura ma da cui possiamo imparare anche molto tra l'altro una squadra con tanti azzurri e azzurrini che scenderanno in campo quindi vi conoscete ovviamente bene tra i tanti Tommaso Romei fresco di convocazione con la Nazionale Senior c'è Nicola Fadanelli centrale della Nazionale del Venturo Andrea Colleluori portiere della Nazionale Senior abbiamo visto la graduatoria ti chiedo allora tralasciando il Campus Italia il percorso del Campus Italia che campionato stiamo vedendo e come lo state vivendo anche così giovani come siete voi per quanto riguarda gli equilibri della parte alta quindi le squadre più forti di questo campionato tranne il Brixen che comunque sta in un totale dominio tra virgolette che sta sulla vetta tra virgolette in contrastata c'è una grande equità parità fra le altre squadre quindi è comunque un campionato interessante che negli ultimi anni si è evoluto in meglio migliorando sempre di più comunque è bello partecipare a un campionato del genere avresti mai immaginato quando sei arrivato qui a Chiedi quando sei arrivato al Campus di trovarti a giocare non lo so faccio un nome tanto per contro Davide Buzamini magari quindi il terzino sinistro titolare della nazionale piuttosto che contro Pablo Marrocco il centrale titolare della nazionale sinceramente no anche perché eravamo partiti con l'idea di fare la 2 cioè come sappiamo di fare la 2 del girone centro quindi è stata una grande emozione quando ci hanno detto che partecipavamo alla 1 è stato molto bello e stimolante soprattutto per noi per dare il meglio dato che era comunque un campionato sicuramente più alto ma più interessante comunque Ancora 7 partite da giocare per il Campus Italia in Serie A Gold prima di chiudere la regular season poi le prime 4 della classifica giocheranno le semifinali scudetto per le ultime 4 tolto però il Campus Italia che gioca di fatto fuori classifica in questo campionato saranno invece play out per evitare l'unica retrocessione mentre l'altra squadra tra virgolette ovviamente retrocessa è proprio il Campus Italia che è già sicuro di giocare la seconda categoria il prossimo anno la nuova Serie A Silver che sarà una nuova categoria intermedia tra la A Gold e la A Bronze inserita dalla Federazione Italiana magari nei prossimi appuntamenti della Casa della Pallamano faremo il punto anche su questa riforma dei campionati adesso parliamo di nazionale però e di nazionale ce ne sarà tanta nelle prossime settimane proprio qui in Abruzzo nella Casa della Pallamano ad aprile arriverà la nazionale femminile tornerà la nazionale femminile prima di tutto però c'è l'impegno della gara della nazionale maschile Signores Italia-Lettonia gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024 ci sono anche due compagni di squadra di Lorenzo Fragnito nella convocazione di Riccardo Trilini sono Tommaso De Angelis alla sinistra che aveva già debuttato in gara ufficiale e Cristian Manolovic che giocherà la sua prima gara in queste qualificazioni ai campionati europei vediamo il servizio 5 mesi dopo ancora una volta a Pescara sarà il Palagiovanni Paolo II ad ospitare per la seconda volta consecutiva gli azzurri della nazionale maschile di Pallamano nelle qualificazioni agli europei di Germania a 2024 coordinate già definite partita in programma il prossimo giovedì 9 marzo con inizio alle ore 16 e sfida lanciata alla Lettonia e a differenza di quanto avvenuto ad ottobre contro i campioni olimpici della Francia quando il match era stato più una grande festa contro le All Stars mondiali che è un vero e proprio confronto questa volta contro i Lettoni i ragazzi allenati da Riccardo Trilini non avranno alternative al di fuori della vittoria l'Italia deve vincere a Pescara il 9 marzo e se possibile provare a ripetersi a Valmiera il 12 marzo soli tre giorni dopo nella gara di ritorno l'obiettivo è chiaro blindare il terzo posto del gruppo 8 mettersi alle spalle del duo formato dalla Francia strafavorita e dalla Polonia per poi giocarsi il tutto per tutto il 27 aprile avvigevano proprio contro i polacchi sprazzi di Abruzzo come ormai consuetudine nella lista dei convocati scelti dal direttore tecnico confermati l'angolano Andrea Colleluori tra i pali e il terramano Tommaso De Angelis nella batteria delle ali e la 17enne del Campus Italia l'Accademia Nazionale gestita dalla Federazione a Chieti aveva debuttato in casa proprio a Pescara nell'ottobre scorso segnando due reti alla Francia ora sarà affiancato da Cristian Manojlovic altro talento della squadra federale anche lui 17enne che contro i Lettoni farà il suo esordio in gara ufficiale il match tra Italia e Lettonia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena canale 204 e su Eleven Sports ma naturalmente l'informazione principale per gli appassionati abruzzesi riguarda la presenza alla pala Giovanni Paolo II il 9 marzo come detto alle ore 16 sarà possibile esserci acquistando il proprio biglietto attraverso il circuito Viva Ticket online o nei punti vendita convenzionati per favorire i giovanissimi e le famiglie inoltre una notazione importante la Federable garantirà l'ingresso gratuito a tutti i minori di 15 anni Fissiamo anche con l'aiuto della prossima grafica i due appuntamenti delle nazionali maschile e femminile che si svolgeranno in Abruzzo eccolo qua quindi Italia-Lettonia per le qualificazioni a Euro 2024 il prossimo 9 marzo alle ore 16 a Pescara mentre l'8 aprile nel sabato che precede la Pasqua nella casa della Palavano di Chieti si affronteranno Italia e Slovenia a Lorenzo Frendito chiedo due parole sull'importanza della partita quella con la Lettonia che conosciamo molto bene bisogna assolutamente vincere lo dicevamo nel servizio ma anche per due tuoi compagni di squadra che saranno lì convocati quindi Tommaso De Angelis e Cristian Manolović che tra l'altro sono tuoi coetani entrambi i 17 anni La prima cosa è che gli faccio un grande bocca al lupo a tutti e due vivissimi complimenti per la loro convocazione e sì è una gara in cui dobbiamo per forza per forza di cose vincere sia contro la Lettonia che poi contro la Polonia successivamente vedremo però l'importante è concentrarsi prima su questa gara imminente giocare in casa ci terà una grande mano ma ovviamente penso che tutti noi che avremo la possibilità l'andremo a vedere C'erete sugli spalti naturalmente Niente allenamento quel giorno o forse dopo la partita Ce l'ha dato libero Ah ecco è stato buon E' stato libero E' questo il quadro quindi per quanto riguarda questo appuntamento poi lo ripeteremo ancora dopo lo spot dopo la pubblicità intanto altri due tuoi compagni di squadra saranno nella nazionale di Beach Handball che si radunerà a marzo qui a Chieti per svolgere le preparazioni la preparazione ai campionati europei del 2023 vediamo anche in questo caso la scheda che ci permette di vedere l'esito del sorteggio che si è svolto intanto nella giornata di mercoledì a Nazarene a Portogallo che è la sede sarà la sede dei campionati europei dal 23 al 28 maggio i due ragazzi convocati nello stage sono Leo Andreotta e Jacopo Cioni questo è l'esito del sorteggio alla maschile con l'Italia che dovrà affrontare Ungheria Francia e i padroni di casa del Portogallo all'interno del gruppo B come detto 23 al 28 maggio le date mentre in seguito vediamo anche la grafica per quanto riguarda il girone al femminile Italia che qui ha pescato malissimo perché affronterà la Germania campione del mondo in carica la Danimarca finalista agli ultimi europei e poi la Francia in questo girone anche in questo caso ha quattro squadre questo dunque l'esito del sorteggio dei campionati europei di Beach Handball che andranno in scena come detto lo ripeto ancora una volta dal 23 al 28 maggio a Nazareth in Portogallo rimaniamo in tema di pallamano internazionale ma anche di pallamano di casa nostra pallamano vicino a noi geograficamente perché la settimana scorsa e lo possiamo vedere anche nelle immagini e nella foto il presidente federale Pasquale Loria ha ricevuto a Roma nella sede federale dello Stadio Olimpico il comitato organizzatore della Coppa Interamia in capo naturalmente il patron storico di sepe Pierluigi Montauti accompagnato anche dal consigliere federale Lucia Verticelli da Fabrizio Quaranta e la rappresentante della conferenza delle regioni della FGH nel mezzo della foto il presidente federale Pasquale Loria perché è iniziata la macchina organizzativa che dovrà portare ad uno degli appuntamenti che hanno reso celebre la pallamano italiana nel mondo ovvero la Coppa Interamia che si svolge come sempre come ogni anno a Teramo adesso andiamo in pausa e poi parliamo ancora di Campositela con Lorenzo Fragnito e dei campionati regionali da Grazie a tutti. 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 del tutto scontata e anzi aperta per la squadra allenata da Daniela Palarie. Andiamo anche in Serie 2 dove è molto complessa la situazione delle due abruzzesi, Lions Teramo e Presider Pescara, 8 punti per Teramo, 5 per la Presider Pescara, le ultime due della classifica retrocedono e a quanto sembra la lotta è ristretta in questo momento a tre squadre con anche nel mezzo il Monteprandone, più staccato invece il gruppo formato da Prato, Colpo in Parma e Tavarnella e Pantara in Modena, vediamo anche il prossimo turno, Pescara che giocherà domenica affrontando il Tavarnella, è una gara comunque molto importante, forse l'ultima spiaggia per i pescaresi, Teramo invece che riceve il verde-azzurro, squadra che arriva da Sassari. Anche in Serie B facciamo un ultimo balzo, questa è la graduatoria del gruppo dell'area Marche Abruzzo con il Cingoli, formazione marchigiana che guida la graduatoria, il duo di testa, vede anche la Camerano a 17 ma c'è anche il Chieti che lotta per rientrare nella lotta playoff per soprattutto conquistare la promozione nella prossima Serie A Bronze, la nuova A2 del prossimo anno, anche qui vediamo il prossimo turno perché si torna in campo, Chieti che ospita il Cussancona e poi il derby Handball Club Pescara contro Città Sant'Angelo oltre a Cingoli Camerano e Chiaravalle Falconara. Questo è il quadro anche per quanto riguarda la Palamano regionale, noi siamo in chiusura io ringrazio Lorenzo Fragnido per essere stato con noi Grazie a te Marteo di avermi invitato qua E noi con la Casa della Palamano torniamo sempre su Rete8 la prossima settimana Buona Palamano a tutti, alla prossima! Grazie a te Marteo di avermi invitato a tutti, alla prossima!